Prima di tutto ci tengo ad accodarmi ad Andrea nel ringraziamento agli organizzatori e alle organizzatrici di questo splendido festival perché credo che sia da un punto di vista un po' più personale, emozionante e da un punto di vista più collettivo molto importante tornare a costruire collettivamente discussioni di questo tipo, a provare a immaginare insieme quali prospettive ci diamo di fronte a una trasformazione così radicale del mondo che stiamo vivendo e farlo insieme insomma è una cosa che a me personalmente al di fuori della retorica emozione quindi grazie per questo tipo di momento che avete organizzato in una fase così difficile. Come diceva prima Lorenzo un anno fa quando stavamo iniziando ad attraversare la prima fase del lockdown durante il covid c'era la percezione che stesse succedendo qualcosa di completamente inedito nella storia recente, qualcosa di straordinario e come in ogni momento straordinario si valutava ci potessero essere delle opportunità in quella fase. Mi ricordo molto bene ma immagino ce lo ricordiamo tutte e tutti che lo slogan che ci si era un po' dati in quel periodo era non torneremo alla normalità perché la normalità era il problema e secondo me questo era un punto abbastanza cruciale di tutti i ragionamenti che come militanti e non solo ci ponevamo. Insomma il blocco delle produzioni, le prime zone rosse, le varie chiusure, il lockdown stesso ci restituivano la percezione di straordinarietà di quel momento ma soprattutto ci lasciava in qualche modo forse oggi mi verrebbe da dire quasi ingenuamente lo spiraglio che la macchina capitalista potesse incepparsi. Questo era un po' quello che avevo in mente, ingenuamente riparisco, sbagliato quindi è colpa mia chiedo scusa, in quel momento e si valutava che in quella faglia potesse generarsi un cambiamento. Come dicevo prima ho sbagliato perché un anno dopo ci siamo accorti che disgraziatamente non è andata così. Quella situazione di straordinarietà, di sospensione dell'ordinario appunto è pian piano diventata una nuova normalità e questa è una cosa che ci ha fregato un po' come nella metafora della rana che non viene buttata direttamente dentro all'acqua bollente ma viene messa nella pentola con l'acqua tiepida e piano piano viene acceso il fornello sotto le sue chiappe. Questo è un po' quello che c'è successo e purtroppo le chiappe non erano quelle della rana ma le nostre. Chiappe era una parola importante da dire. Cosa ci ha restituito il covid dunque? Se avevamo l'impressione che il capitalismo potesse essere messo in discussione invece abbiamo scoperto che il capitalismo ragazze e ragazzi è più in forma che mai perché è in grado come giustamente diceva Andrea di sapersi ristrutturare costantemente, ha questa straordinaria e terribile capacità di mangiarsi tutto, che quelli bravi chiamano sussunzione ma mangiarsi tutto da una percezione un po' più pragmatica e ogni dimensione della nostra vita rientra in questa trasformazione. La finanziarizzazione ad esempio è un esempio piuttosto tangibile del fatto che l'economia reale viene inglobata da processi che vanno molto oltre la nostra quotidianità e poi però ricade clamorosamente sulle nostre spalle. Dunque ci è stata imposta ancora una volta questa ristrutturazione e ci siamo dovuti e dovute abituare a questa nuova situazione e un anno dopo evidentemente siamo più poveri e povere, più disaggregati e disaggregate, più frammentate, forse anche più depressi di sempre e questo sarebbe importante dircelo per iniziare a parlare del fatto che il capitalismo ci rende tristi e io di essere triste a 27 anni non c'ho proprio voglia francamente e immagino chiunque a qualsiasi età. E tutto questo è testimoniato da diverse cose, da diversi elementi, la crisi economica ed esistenziale sempre più profonda che stiamo attraversando, i tassi di disoccupazione sempre impennati e sarebbe bello che fossero impennati perché non dobbiamo lavorare, possiamo campare felici e invece sono impennati e in tasca non ci arriva un bonifico a fine mese e ci facciamo delle domande su come campare e come tirare avanti. C'è una condizione di precarietà e fragilità che è estrema ma soprattutto c'è un vertiginoso aumento delle diseguaglianze perché se questa fase ci ha restituito la nostra collettiva sconfitta purtroppo per ogni sconfitta dall'altro rovescio della medaglia c'è un vincitore e forse è il momento di andare a cercare la testa di questo vincitore mi verrebbe da dire. Penso anche a tutta la prospettiva di genere che abbiamo vissuto in questa pandemia, penso all'aumento clamoroso delle diseguaglianze anche in ambito lavorativo per quanto riguarda le donne, penso all'aumento della violenza domestica, penso al fatto che il 90% della perdita dei posti lavoro è a carico dei soggetti non maschi e credo che tutto questo abbia avuto, come sottolineava anche prima Andrea, ricadute anche sul punto di vista ambientale e quindi vediamo che questa situazione ha avuto ripercussioni su ennesime e tantissime dimensioni della nostra vita, penso al dramma sanitario che forse stiamo lasciando in sottofondo ma non andrebbe dimenticato ad esempio perché stavano continuando a morire una marea di persone ed erano sempre i soggetti più fragili e dicevo prima per ogni sconfitta c'è un vincitore e di nuovo come sottolineava molto bene Andrea i vincitori sono stati le grandi multinazionali, l'economia delle piattaforme, ricordo ad esempio il video del presidente, io non voglio parlare male del Torino calcio perché gli voglio un sacco di bene per quanto non sia la mia squadra ma il presidente del Torino calcio Urbano Cairo nonché noto imprenditore in questo paese aveva diffuso uno splendido video in cui era estremamente esaltato per la situazione e diceva che il covid era la sua opportunità per fare più soldi non siamo molto contenti per lui gli auguriamo altre cose insomma quindi forse oggi è il momento di tornare a parlare di distribuzione dei redditi perché in questa pandemia ne siamo usciti più diseguali che mai c'è anche un altro aspetto secondo me che è importante di questa pandemia che è quello della narrazione pubblica che gli si è attribuita ad un certo punto se ne siamo accorti tutte e tutti quest'inverno si è verso febbraio era è sparito dal dibattito pubblico il tema della pandemia perché perché c'era la farsa di Renzi che doveva far cadere il governo e allora non si è più parlato di numeri di persone che stavano morendo di sanità di tutta una serie di cose e si è reimposta la dimensione della normalità basta il covid non è più di moda è più 2020 il covid forse ma torniamo a parlare di Renzi che fa così 2016 comunque tra le altre cose e quindi c'è stata una trasformazione della narrazione mediatica in cui il dibattito pubblico è stato ridotto al dibattito tra riaperturisti e responsabili io tra riaperturisti e responsabili non so con chi ce l'ho di più francamente faccio veramente fatica a scegliere perché se da una parte si è ridotto il si è semplificato talmente tanto il dibattito sulla responsabilità schiacciandolo sulla responsabilità individuale per sottrarlo al tema della responsabilità politica di cui la politica stessa scusate il gioco di parole avrebbe dovuto farsi carico dall'altra i riaperturisti erano salvini e quel negazionismo un po complottaro che francamente a me personalmente appartiene poco e trovo che questa semplificazione del dibattito pubblico sia una delle cose che ci ha fatto più male perché ci ha sottratto la possibilità di confrontarci con le contraddizioni di questa fase e con la possibilità di immaginare insieme delle soluzioni e credo che oggi è per questo facevo questo ringraziamento così sentito in apertura ci stiamo riprendendo insieme la possibilità di immaginarle insieme queste soluzioni quindi di fronte a tutto questo io credo che sia importantissimo e lo faranno molto meglio le persone che seguiranno molto meglio di me le persone che seguiranno il mio intervento dopo costruire insieme delle rivendicazioni collettive e iniziare a pensare a delle soluzioni per i tanti e non per i pochi per le tante per l'utante credo che sia utile sottrarsi a una narrazione emergenziale e tornare a un ripensamento strutturale della nostra società io penso che la crisi del covid abbia cambiato strutturalmente abbia avuto come conseguenza una serie di trasformazioni strutturali ma sia soprattutto una cartina al torna sole di tutta una serie di trasformazioni strutturali che già erano in atto prima ma che sono state accelerate in quest'ultimo in questi ultimi due anni credo che oggi la cosa più importante sia ricostruire l'idea di redistribuzione come principio cardine di un nuovo progetto politico credo che redistribuire curiosamente significhi togliere a qualcuno per dare a qualcun altro e credo che sia importante oggi dirci che proprio la parte di togliere a qualcuno non è più eludibile va fatta questa cosa va fatta più urgentemente possibile e diceva di nuovo andrea molto meglio di me in quale modo attraverso la politica monetaria attraverso il reddito di base e reddito di base per me non deve essere un palliativo reddito di quarantena in cui addirittura ci si è permessi di andare a chiedere indietro dei sussidi che sono stati dati a delle persone un anno fa ma dove stiamo mi verrebbe da dire perdonate se mi addirò e quindi credo che parlare di reddito di base significhi immaginare un altro modo di stare in questa società immaginarci un mondo in cui il lavoro e questo lavoro che è sfruttamento non sia l'unica alternativa che si dà e non sia l'obiettivo delle nostre vite credo che dobbiamo rivendicare la nostra autodeterminazione la nostra libertà personale e il reddito di base ad oggi a me sembra l'unico strumento che ci consente di riprenderci la libertà della nostra esistenza come diceva prima Andrea forse sto citando un po' troppo sto dicendo tutte le cose che hai detto tu praticamente questo ha a che fare anche con l'ambiente le scelte che facciamo per questo pianeta e credo che di nuovo in questo festival si siano fatte una serie di scelte estremamente radicali in questo senso insomma penso che più in generale parlare di redistribuzione parlare di reddito di base oggi sia pensare a delle soluzioni che non siano un palliativo ma siano un altro modello di sistema che sia sostenibile per tutti e tutte e che parta dalla sottrazione di quello che ci è stato sottratto e quindi penso che sia urgente riprenderci tutto il più velocemente possibile in ultimo e chiudo non so come sono andata con i tempi spero di non essere stata scarsissima perfetto quindi smettiamola di cazzeggiare andiamo dritti al punto il recovery plan e il PNRR rappresentano una fase inedita in cui la politica è espansiva ovvero vengono messi i soldi in teoria e non tolti come è successo ad esempio durante l'austerity tuttavia non è che basta che ci mettete i soldi e mo qua è tutto un giardino è importante che poi i soldi i finanziamenti le risorse per dirla in maniera un pochino più elegante abbiano un certo indirizzo e che questo indirizzo siamo in grado di determinarlo noi e non di farlo determinare da chi da anni decide sulle nostre teste e sulle nostre vite grazie 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 a tutti